La prima mail mi è arrivata circa un anno fa. All'inizio non avevo capito cosa volessero da me. Pensavo ai soliti fans, quelli che ancora dopo tanti anni continuano a scrivere. Tutto doveva sembrare reale dall'inizio alla fine. E quello che quei poveri ragazzi non potranno immaginare è che la cosa sarebbe venuta davvero. La prima volta è venuta. Breed in! Breed in! Italian air! E' un'onsoitone. E' un'onsoitone. E' un'onsoitone, do you like it? Well, it's not very scary. Marco, cosa vuoi fare? The plot of the movie. Ok. Cannibal Holocaust. Have you seen it? The masterpiece of Ruggiero Deodato. The most horrific movie in history. Cannibals! Stories about demons and angels and witches. They don't scare anybody because they're not about real things. Instead, we do REALISM! Let's go! Let's go! No! 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 Inside! Quickly! What is this place? It's strange. Thousands of years and nothing has changed. Lily didn't accept that and was always Adam to fuck her. Always him in the same position. Don't look around the eyes! She wanted to fuck him also. Ride him from the top. No! No! But Adam refused. No! She had to be subdued. And God drove her out because of that. No! Grazie a tutti